E in Sicilia un quinto dei siti contaminati da Amianto in Italia, l'intervento dell'Osservatorio Nazionale, i dati su vittime e bonifiche, le prospettive. L'Amianto uccide 200 siciliani ogni anno e in 30 anni le vittime sono state oltre 6.000 e saranno ancora tanti di più. Così afferma e conferma Ezio Bonanni, presidente dell'Ona, l'Osservatorio Nazionale Amianto, che spiega. Purtroppo il Lepico ci sarà nei prossimi anni perché la Sicilia registra un elevato numero di casi di malattie correlate tra mesoteliomi, tumori polmonari e asbestosi. L'Osservatorio cita il rapporto dell'Inail e secondo cui in Sicilia sono stati 1.810 casi di mesotelioma dal 1992 al 2018. L'indice di mortalità nei cinque anni è del 93% e tra i 1.810 affetti da mesotelioma i morti sono stati 1.453, che sono 1.720 sommando i morti dal 2018 in e poi. E poi si sommano anche i 3.500 morti per tumore al polmone e i 1.000 per altre malattie correlate all'Amianto. Dunque 6.220 decessi nei 30 anni. In Sicilia sono tanti i luoghi contaminati e Bonanni li ricorda Melilli, Siracusa, Augusta, la Valle del Mela, i cantieri navali di Palermo e il cosiddetto triangolo della morte con Gela, Siracusa e Ragusa. I legali dell'Osservatorio hanno seguito 14 casi giudiziari dal 2008 ad oggi. Solo nel 2023 tre vittime hanno ottenuto risarcimento per quasi 1.200.000 euro. Un ex macchinista delle ferrovie di Palermo deceduto nel 2007, poi un manutentore elettrico che ha lavorato per 17 anni a stretto contatto con l'Amianto nello stabilimento Eni di Gela e poi un elettricista morto nel 2019 dopo aver respirato Amianto nelle navi della Marina. Nel 2017 la Corte d'Appello di Roma ha sentenziato che l'esposizione all'Amianto riguarda tutti i lavoratori del polo petrolchimico di Priolo e anche gli abitanti della zona. Non mancano poi casi alla fincantieri di Palermo, al comune di Siracusa e alla centrale termoelettrica Enel di Termini Merese. In Italia i siti contaminati dall'Amianto sono 108.000 e un quinto è in Sicilia, tra 354 scuole e 212 uffici della pubblica amministrazione, 30 impianti sportivi e 27 tra ospedali e case di cura. Come si legge sul portale informativo Amianto della regione siciliana, i siti censiti sono 19.451 e tale censimento è effettuato tramite i piani comunali Amianto. Alla fine del 2021 sono stati contati 113 piani presentati su 391 comuni e dei 113 solo 34 risultano completi. Non è difficile ipotizzare quindi che i siti contaminati siano almeno il triplo, dunque 60.000. E in riferimento alle bonifiche, tra il 2015 e il 2022 sono stati ripuliti quasi 37.000 siti contaminati e raccolte oltre 57.000 tonnellate di amianto, secondo quanto dichiarato dalle aziende autorizzate. Nel 2022 sono stati 5.075 i siti bonificati e 5.900 le tonnellate di amianto rimosse. Vi sono 28 progetti approvati dalla regione in ospedali, scuole e asili per una spesa di 1.400.000 euro e altri 10.000.000 euro per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto nelle case private. Ed Ezio Bonanni conclude. L'obiettivo fondamentale alla bonifica, liberare il territorio dall'amianto utilizzato senza remore fino al 1992 e solo in piccola parte bonificato, significa eliminare una parte dei cancerogeni con cui troppo spesso entriamo in contatto e non esiste una soglia minima sotto la quale possiamo stare tranquilli. Purtroppo però è sempre più spesso piccoli cavilli vanificano i nostri sforzi e ignorano l'approvata ed elevata esposizione ad amianto che molti lavoratori siciliani hanno subito senza cautele. Quando la battaglia è giusta trovo sconcertante la poca attenzione e il poco riguardo per le vittime dell'amianto. ...como quelle degenerative indotte dalle nanoparticelle all'urani impoverito... ...ikes ...